Buongiorno, siamo tornati oggi, ieri è saltata la radio, debacle totale, è stato bene, tolopata, ho gli occhi. Cosa ci hai portato? Questa cosa ha portato? Come si chiama sta roba? Foratina. Fora? Foratina. Foratino? Foratina. Foratini? Questo è Foratini si chiama? Foratina. E si faceva il vino a casa? Torchio pure. O Torchio? Torchio. Si girava a Manuella questa cosa? E il vino direttamente ci va da un'uva, non è che era vino, era uva, succo d'uva. Poi lo mettevi a... La pasta la chiamiamo. Sa tutto lui come si fa il vino? La pasta. Diamo alla pasta? Quella pasta che fa? Viene spremuto, dentro il Torchio. E oggi è? Oggi è San Martino. San Martino, oggi. San Martino, Torzi. Tozzi. Torzi. Tozzi, come cantante. No, Torzi. Torzi, San Martino, Torzi. Torzi. Tozzi o Torzi? Cioè, detto si dice San Martino, ogni mosto diventa vino. San Martino, ogni mosto diventa vino. Quindi oggi tutti i mosti che sono lì pronti, già pigiati, diventa vino. No, oggi si è pronunciato le tanniche. C'è la tannica che c'è. Per vedere se... Io ho sentito il mio socio ieri sera, per assicurarmi se era San Martino. Non te sto capito. Ieri sera ho chiamato il mio socio. Dico, papà, ma domani diventa... E dice, io dove aprire... Domani dove aprire, vediamo cosa ne esce. Domani che deve aprire? Perché si riperi oggi. Dove aprire la tannica del vino, per vedere... Apri la tannica del vino, per vedere se è vino... O è diventato aceto. O è diventato aceto. Se è diventato aceto... Si butta tutto? No, fa l'aceto. No, non lo butti, vai l'aceto e metti i peperoni. Metti i peperoni, aceto, di pomodoro e aceto poi metti. E quindi se il vino diventa aceto, non si butta perché è aceto. E ci mette i peperoni. I peperoni... Sottaceto. I sottaceti, i famosi sottaceti. Ma pensate. Tutto questo avviene oggi. Nei paesi non si butta niente. Avviene oggi che San Martino Tozzi. Torso. Torso cosa? Leggilo, ce l'hai scritto qualche parte? No, non capisco. San Martino Tozzi. Tozzi, come le scarpe. San Martino Tozzi. Di Torso. Ah, di Tours. San Martino di Tours. Torso come tour. Come giro. Al plurale. Torso. Scritto Tozzi. San Martino Tozzi. Hai ragione. Torso. Stai bene con gli occhiali? Mi giurato. Bella, eh? Bella, bella sta cosa qua. Torso con il... Ma l'hai portato tu? Ci arrivi a casa? Sì. Questo è per farsi il vino a casa. Quello proprio... Il vinello. Ti fai due o tre bottiglie. Prima che lo metti qui dentro, va a pestare... Con le campi, no? C'è qua i piedi. C'è qua i piedi. Mi metti i stivali. Prima il vino si faceva dentro la... Non ti capisco. Parla piano. Il vino prima si faceva senza... Con i piedi. Senza calze. E si pestava. Poi si metteva la pasta. E si metteva dentro tutto. Dentro a quello? Metteva i pesi sopra di legno. Stringerete. Stringerete la mano. Poi con la... La mano quella che si vede. Sì. Quella sartellina che era facendo. Lì. 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 Ogni volta che... Poi è venuta... Poi è venuta... Dopo questa è venuta quella... A pompa. Quella a pompa. Quella con l'olio... Con? Olio idraulico. Così. Idraulica. Idraulica. Pompa idraulica. Poi quella fai meno fatica. Questa invece... Questa è una cosa che fai... Non avete visto le mani ma... Ha fatto così. Ha fatto così ma le mani non le avete viste. Vabbè. E dopo questa lezione sul... Come si fa il vino di Agonia... Sei felice oggi questa storia del vino? Era giorno di festa San Martino in Campania. Eh? Sì. Perché tutti vanno ad aprire per vedere... Sarà vino o sarà aceto. Ma tu non hai assaggiato il mio? Sarà vino o sai... I signori Ponti... Speravano fosse tutto aceto perché... No è una bella cosa poi quando... La prima cosa che fai... Conta vino no? Prendi il bicchiere... Te lo metti contro luce no? Te lo metti contro luce no? Questa tutto... Questo è torbido questo... E cosa succede quando lo metti contro luce? Vedi? I primi sorzetti. I primi sorzetti? I primi sorzetti? A tavola... Guarda come se la ride... E tu sorseggiavi? Ti piaceva? Insomma... Vabbè a Roma lo chiamano Novello. Novello. Che canzone c'hai? Che canzone c'hai? Oggi la dedichiamo... Sul vino eh insomma. Eh facciamo quella di... Tony Santagata. Tony Santagata. ha predicato lui... Fate il vino... E quindi... Vai... Tony Santagata... Don Marietiello... E con questa vi salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. 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 Ciao.